Carissimi tutti che vi siete riuniti con me intorno al lettino di Elvira con le manine cicciotte incrociate in una preghiera cosmica per la maturazione dell'umanità intera. Ho avuto con Elvira un incontro meraviglioso che ho condiviso nell'integrazione che ha innescato la spirale spirituale della trascendenza della globalità dei linguaggi sempre in evoluzione. Elvira ci ha raccontato prosodicamente tutti i sentimenti della comunicazione empatica nel cuore a cuore. Parola mia senza una parola. Ci ha donato il suo corpo per sempre, la sua risata, tutte le intonazioni emozionali della sua luce con am, 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 amore, am, 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 am. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!